Il sindaco del comune di Agropoli, Adamo Coppola, tramite apposita ordinanza, ha disposto il divieto di vendita accensione, lancio e sparo di artifici pirotecnici. Il provvedimento impone il divieto a chiunque di far esplodere petardi o botti di qualsiasi tipologia su tutto il territorio comunale nel periodo compreso tra il 30 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione del provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro. L'osservanza dell'ordinanza è demandata alla Polizia Municipale e agli agenti della Forza Pubblica.